Il sindaco di Stio, Natalino Barbato, durante la diretta news di Cilento Channel, ha parlato di un problema che riguarda tanti ospedali, tra cui anche quello di Agropoli. La città merita un ospedale degno dove la gente debba essere assistita, ha detto Barbato. La mancata riapertura è dovuta dal fatto che i contagi sono in decrescita, contestualmente però c'è anche una scarsità di medici. Parlo come sindaco, ma anche come medico a capo dell'ospedale d'Aprocida di Salerno, che come sapete è diventato a tutti gli effetti un ospedale Covid. Per organizzare l'equip che ora dirigo abbiamo scorso una graduatoria di 18 persone e siamo riusciti per fortuna a trovare un pneumologo. In questo momento servono soprattutto pneumologi e infettivologi, ma è molto difficile averne a disposizione perché tutti occupati. Ci auguriamo che l'Asla al più presto possa attivarsi per il reclutamento di nuove figure sanitarie e per soddisfare il fabbisogno delle strutture ospedaliere.